Ecco Zinder è una realtà che nasce negli anni sessanta. Noi ci occupiamo di produzione di sali di zinco e sali di rame per fare dei prodotti che vanno nella mangimistica animale, nei fertilizzanti, nella vulcanizzazione della gomma e come additivi per la cosmesi. Il nostro processo è un processo a becce con un impianto idrometallurgico. Noi lavoriamo separando vari elementi quindi prepariamo delle soluzioni con dei processi di sintesi e una volta finiti i trattamenti li passiamo allo step successivo. Il nostro processo avviene mediante un processo a caldo quindi abbiamo necessità di avere vapore fluente nelle nostre fasi di processo. Abbiamo utilizzato fino a un paio d'anni fa la tecnologia dell'olio diatermico, siamo passati alla tecnologia dei tubi di fumo questo per un discorso di risparmio energetico e anche per avere la possibilità di una caldaia che modula in funzione delle necessità di gestire picchi e cali di consumo durante le 24 ore. Noi abbiamo preso una caldaia da Cannon Bono Energia SG1000 per garantirci tutto questo. Uno dei valori aggiunti che ci dava l'utilizzo di questa caldaia è il fatto di poter avere all'interno della configurazione dell'hardware un MPC che modula in base alle diverse necessità nell'arco della giornata che abbiamo. L'installazione della caldaia SG1000 di Cannon Bono Energia ci ha portato ad avere una stabilità di processo durante la giornata e di avere un controllo maggiore dell'efficienza della caldaia che porta poi a un risparmio sia elettrico che termico durante la giornata. Siamo soddisfatti dell'assistenza che lo staff di Cannon Bono ci ha riservato sia durante la fase di acquisizione sia nella fase di post vendita e di assistenza. Abbiamo scelto Cannon Bono Energia perché è una società primaria nel mercato soprattutto sulle caldaie a tubi di fumo. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!